La storia delle relazioni tra la Libia e l'Italia è vecchia, più di un secolo. Tra i civili, come sempre, le vittime sono migliaia, anche se il loro numero è ancora ora imprecisamente. La mia prima stanza dei giochi è stata la cabina di una nave e la mia prima culla è stata il mare. La mia prima stanza dei giochi è stata il mare. La mia prima stanza dei giochi è stata il mare. La mia prima stanza dei giochi è stata il mare.